Articolo 4. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Di nuovo il diritto al lavoro, che viene negato anziché promosso, e non solo non vengono rispettate le condizioni per rendere effettivo questo diritto, ma viene creato un danno grave, poiché sgomberare un laboratorio significa smantellarlo, con la rimozione degli strumenti, dei macchinari, dei cablaggi e delle strutture tecnologiche, meccaniche e informatiche, costruite su misura per quel luogo. Inoltre lo sgombero forzato è a carico di colui a cui viene sottratta l'abitazione a fronte di una situazione debitoria. Dove dovrebbe trovare costui le risorse per effettuare lo sgombero? Esiste qualcuno in grado di rispondere? Non è dunque aggravare una situazione già sufficientemente grave? Non è segno di totale disinteresse? È pesantemente contraddittorio, anche solo a livello logico. Denota assurdità. È possibile che esistano zone così involute, per non dire imbecilli, della legislazione, come possono anche solo chiamarsi norme degli errori così eclatanti? E i giudici che le applicano? Il debito che ha causato il mio sfratto non è maturato con l'Agenzia delle Entrate, che infatti riconosce l'impignorabilità di una prima casa, ma è stato generato da quello, quindi è ovvio che ne sia diretta conseguenza. Questa è stata la sequenza corretta. L'Agenzia delle Entrate mi ha imputato un debito maggiore, quindi ha iniziato furiosamente, incessantemente, a pignorare il 100% dei miei guadagni, invece di propormi soluzioni di rataizzazione o di transazione, non distinguendo evasori e professionisti da sfortunati raggirati. Mi ha privato di tutti i miei risparmi e dei compensi lasciandomi a zero maggiore. Io non ho potuto sostenere gli assegni per il mantenimento di mia figlia. Maggiore la madre mi ha fatto svendere la casa all'asta, maggiore la svendita a un terzo del suo valore non risolve il debito con l'Agenzia, ma solo parte degli spropositati interessi, maggiore il debito rimane sia con l'Agenzia che con il mantenimento. Maggiore l'Agenzia continua a sottrarmi indistintamente ogni introito, maggiore io non ho più la casa e lo studio, maggiore non posso più lavorare e quindi guadagnare, uguale non pago i debiti, non lavoro e non vivo, uguale muoio. Sarebbe questa la tutela del diritto inviolabile al lavoro e allo sviluppo della persona da parte dello Stato? Si deduce che la stessa Repubblica, che nella sua carta costituzionale, si impegna a promuovere il diritto al lavoro, in questo caso non solo non fa nulla per promuoverlo o eliminare gli ostacoli, ma è lo Stato stesso ad ostacolare, poiché agisce per la soppressione di tale diritto, ciecamente, ottusamente, senza interessarsi di cosa ha portato a tale condizione. Laddove anche una minima indagine sulle cause scatenanti sarebbe dovere costituzionale dello Stato, in quanto effettivo impegno e supporto da cittadino, individuo o persona, e aiuterebbe a chiarire molte cose. Oltre al mancato interesse dello Stato sulle ragioni, c'è la negligenza a fornire supporto medico e psicologico per affrontare una devastante e traumatica azione forzata, che è giudicata clinicamente della stessa entità del lutto, spesso trauma insommontabile. E allora la Costituzione non solo non è applicata, ma è delegittimata, irrisa dalla messa in atto dell'esatto contrario dei principi che professa.